Un esposto contro ARPA per dell'inadempienza in fase di collaudo della discarica di amianto di via Brocchi. Questa mattina alle 9.30 alcuni membri del comitato spontaneo contro le nocività che da anni si batte per la tutela dell'ambiente nella zona sud-est della città hanno quindi presentato una formale denuncia contro l'ente regionale. Perché abbiamo constatato che nei verbali di collaudo stesi appunto da ARPA in seguito a numerosi sopralluoghi non è mai stata verificata l'esistenza della fascia boscata di mitigazione che invece era prevista nell'autorizzazione rilasciata. La fascia boscata di mitigazione al centro della contesa dunque perché le norme regionali prevedono una larghezza compresa fra i 10 e i 20 metri. Le immagini girate alla discarica questa mattina parlano da sole circa le condizioni di quella che dovrebbe diventare una barriera naturale. Purtroppo abbiamo verificato che ARPA non ha mai fatto un controllo, perlomeno non ha mai dichiarato l'esistenza di questa significativa fascia boscata. Inoltre facendo dei sopralluoghi noi abbiamo sempre visto che è sempre stata presente solo una limitata serie di alberelli, un filare di alberi tra l'altro piuttosto limitati, anche in altezza, mentre invece dovevano essere alberi di alto fusto. Un allargamento della fascia che nel caso di via Brocchi non potrebbe certo realizzarsi sulla strada che separa la cava Faustini dalla discarica di Emianto. Lo spazio fisico per realizzare i 10 metri o i 7 metri di fascia boscata non c'è. L'unico modo per intervenire è occupare la strada pubblica, ma naturalmente non è possibile, oppure arretrare la scarpata della discarica di almeno quei 10 metri che sono indispensabili. L'attività della discarica è ferma da tempo, da quando le indagini della Procura documentarono l'errato posizionamento e soprattutto lo stato di insufficiente conservazione dell'amianto che vi era stato conferito. In attesa del pronunciamento dei giudici all'interno della discarica la natura sta comunque facendo il proprio corso. Per cui c'è tutta una fila di pacchi di amianto che per il 30% sono depositati in maniera irregolare, come certificato anche dal magistrato della Procura della Repubblica durante le indagini che sono state svolte in passato e che avevano pure posto sotto sequestro la discarica. I pacchi sono ancora lì, non sono stati nemmeno rincelofanati, ma sono lasciati depositati lì, coperti di terra, tra l'altro all'acqua, al vento e adesso anche ricoperti completamente di sterpaglie. Per cui anche queste sterpaglie che crescono lì sopra, attraverso le radici, sicuramente non fanno bene a questi pacchi che sono mal depositati. Dal canto suo regione Lombardia ha diffidato profacta a provvedere all'adempimento dei propri doveri, anche se l'organo controllore resta sempre quello per il quale è stato presentato oggi l'esposto. Però sarà sempre l'ARPA che dovrà collaudare il risultato finale, per cui siamo nelle mani dell'ARPA.